Quanti anni compi oggi? 100 anni 100 anni Senti, come si fa ad arrivare a 100 anni? Come si è arrivata a 100 anni? Si è fatto bene, si è arrivata a 100 anni E cosa facevi? Ah, in un bagno Festa grande per i 100 anni di Giuseppina Valerio, originaria di Grumo App Pula Mappalese d'adozione Menù delle grandi occasioni nella sala ricevimenti 5 figli e 14 nipoti Oltre a una folta schiera di amici Hanno festeggiato Giuseppina Niente affatto disposta A cedere lo scettro di padrona di casa Che accudisce insieme a una delle nuore Come passi le giornate? Che fai a casa? Fai il sorveggio Quindi fai ancora i servizi? Sì, i servizi in casa Ah, quindi fai tutto tu? Tutto bene Sorridente e gentile Nonna Giuseppina è stata una gran lavoratrice Si è spaccata la schiena in campagna fin quando ha potuto Balla e canta anche con i bambini che adora Fervida credente Non recita meno di tre santi rosari al giorno Giuseppina passa le sue giornate sempre in compagnia Anche davanti al televisore I suoi programmi preferiti Affari tuoi Pomeriggio 5 Ma soprattutto TV 2000 Il canale delle messe Come lo chiama lei Non disdegna il segreto La sopopera Non quello della longevità Che nonna Giuseppina Valerio Non ha proprio voluto svelarci Sì! Sì! Buon giorno